oh sì 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 stamattina ci si dedica ai pomodori ti faccio vedere due robe mentre raccolgo quando raccolgo stiamo andando a raccogliere praticamente e fare selezione cosa vuol dire questi li ho già raccolti ieri andiamo a raccogliere tutti i pomodori già maturi oppure sono ora li ho già raccolti tutti più o meno un attimino più abbronzati di questo questo perché non potendo raccogliere ogni giorno ma due volte a settimana più o meno si abbronzano nell'andare a fare poi l'operazione di raccolta il momento in cui andiamo a fare già anche selezione di nuovi pomodori tipo queste qua hanno marciome apicale sotto via le buttiamo in mezzo alla corsia perché dopo quando trinciamo viene praticamente tutto pulito questo qua ci permette di andare già a selezionare una serie di pomodori vedi questo qua è medio lo lasciamo ancora un attimino abbronzare però qua ecco qua qua ce li siamo dimenticati più o meno di questo colore lo andiamo a prendere vedi per questo qua nel giro di pochi giorni si abbronza fate conto che siamo sui 39 gradi 38 39 gradi ieri quindi temperature molto molto alte quindi che cosa vuol dire che un pomodoro del genere incomincia abbronzarsi abbastanza in fretta già nel giro di due giorni è a posto noi riusciamo a dedicarci due momenti di raccolta tendenzialmente il lunedì e il giovedì certo se voi siete a casa soprattutto non avete 1500 piante da raccogliere riuscite a gestire meglio il tutto noi prendiamo anche i pomodori un attimino più indietro perché li riusciamo comunque a vendere a vari clienti che comunque ci chiedono anche l'ortaggio un attimino più indietro per quanto io li venderei tutti maturi la richiesta è quella e questo ci gioca anche comodo anche perché se dobbiamo fargli fare un giorno e c'è la frigorifera ce l'abbiamo ci resiste senza deperire senza perdere nessuna proprietà quindi questo qua più o meno la gestione questo metodo di andare a fare una raccolta legatura e anche una selezione dell'ortaggio a mio avviso è molto vantaggiosa giro di solito con due secchi secchio pomodori bello secchio pomodori diciamo seconda scelta per capirci questo ma sarebbe una prima scelta questo ma col culetto nero una seconda scelta quindi questo palo prestiamo un attimo di meno così sono già selezionati nell'andare poi a controllare andiamo a vedere se c'è qualunque parassita può esserci per esempio questo qua deve essere la tutta assoluta c'è sarà pro vedrai che esce il vermicello ora che cosa si va a fare in questi casi volo fartelo vedere vedi vermicello in questo caso lo togliamo nella maniera in cui ne noto tanti che incominciano a bucare la nostra pianta da buttare assolutamente vado a fare un trattamento oppure vado a prendere le trappole appunto quelle che incollano in modo tale che so esattamente quante ce ne sono però il trucco vero è continuare osservare i propri pomodori incominciare a scrutare tipo ti faccio vedere un'altra cosa eccola lì non so se la vedi quella lì è una cimice quindi vuol dire che stanno svernando svernando è un termine sbagliato stanno moltiplicando le cimici quello è dato da due errori poi tra virgolette errori abbiamo lasciato un pomodoro maturo tendenzialmente vanno molto sui pomodori mature su certe varietà di pomodoro stiamo facendo controlli cimici che incominciano comunque a darci dei problemi ne ho notate varie e sono piccoline finché siamo piccoline possiamo andare ancora farcela stiamo facendo l'olio di neem te lo lascio in descrizione perché l'olio di neem ha due problemi prima di tutto è un olio quindi non si miscela facilmente con l'acqua quindi rischiamo di non dare il prodotto quando lo facciamo il secondo problema che hai che è fotosensibile vuol dire che il più venduto su amazon in bottecettina trasparente e questo è un problema perché essendo fotosensibile abbiamo un prodotto che ha perso tutte le proprietà quindi per risolvere due problemi ti lascio ribadisco in descrizione il prodotto che stiamo usando noi con una confezione adeguata ma soprattutto già premiscelato vuol dire che non fa effetto olio sull'acqua quindi le bolle ma quando lo mettete nell'acqua mischiandola anche poco essendo già premiscelato nell'acqua insomma si riesce a spargere in modo omogeneo e quindi riuscite a fare un trattamento olio di neem ha solo un difetto te lo dico quando fa il trattamento per due tre giorni viene creata una pellicola sul pomodoro sul sull'ortaggio a gusto e amaro non è tossico e amaro quindi va lavato tutto qua non per un fatto di tossicità ma per un fatto di gusto comunque sia niente andiamo vedi poi altra cosa che si fa controllare l'irrigazione qua sta irrigando direi bene quindi non andiamo a fare nulla comunque vedi le piante sono sane palchi direi niente niente male forse qualche tocco in questo caso di peronospora però sono cose abbastanza limitate a qualche pianta andiamo ora per questi lavoro già raccolti anche questi li ho già raccolti andiamo dentro alla terza fila che è questa perché dobbiamo andare a raccogliere i pomodorini quelli più difficoltosi che sono quelli piccoli vedi vorrei farti vedere questo in questo caso noi questo pomodoro qua lo vendiamo come seconda categoria lo prendono di solito chi fa la conserva di mozza il sedere e lo usa ancora nel caso non ce le vengono a prendere anche qua altra cimicina e purtroppo vedi dopo nel girarci le notti certe robe comunque se non le vengono a prendere torniamo delle associazioni che fanno a mangiare ai poveri molto semplicemente loro raccattano tutto vengono qua di solito il venerdì alla fine del mercato proprio tutto l'invenduto se è un po notevole glielo diamo a loro dividiamo la parte per gli animali gli animali di solito sono proprio o le robe capiamoci marce nel senso immangiabili per noi per loro benissimo quella un pochino molle anche perché i pomodori non gli piacciono oppure i cetiroli veramente lunghi che anche a sapore sarebbero sgradevoli glieli diamo come abbiamo fatto stamattina sto dando da mangiare alle piccole i cetrioli avanzati tecnica visto che le signore se qua non glielo dividi in due non te lo pigliano ma ris mangia tutto allora guardate c'è il gioco lo alzi e col coltello lo tagli ma te lo rifaccio vedere ora di solito faccio con due mani è un po meglio ma tendenzialmente è tac tac via anche se li casca sopra boris non dice niente gli ci piace rimane qui vedi tac tac e la mia giornata no ci metto due secondi però vedi sono tutti schierati perché gli ci piace e cetriolo oddio detta così non era massimo perfetto ora con i secchi vado vado a prendere altri pomodori comunque la cosa bella è la sostenibilità di tutto questo cioè noi non buttiamo effettivamente del degli ortaggi ma magari ti offre un video meglio dovete racconto tutto questo invece teniamo tutta la parte appunto gliela diamo a loro io credo che questa parte è una parte importante per un'azienda agricola noi vogliamo essere un'azienda agricola innovativa che non spreca cibo quindi vuol dire il cibo avanzato o il cibo in eccesso perché anche questi pomodori anche la seconda terza quarta categoria sono cibo viene dato agli animali o alle persone in questo caso se non riusciamo a vendola regalato perché sprecare buttare via in campo secondo me è una scenità ok allora sino a lì ieri ho raccolto ora tocca questi ti faccio vedere come vado a raccogliere quando andiamo a raccogliere i pomodori vediamo di non andare a mai raccogliere quelli non maturi come ti ho detto i verdi certo in commercio in agricoltura si taglia qua di solito vengono usate dei maturatori che accelerano o meglio uniformano la raccolta delle grappe in natura non è normale che si abbronzi tutto il grappolo di pomodori insieme perché quando cresce ora appena ne trovo c'è i pomodori quelli più indietro che sono più grossi i pomodori un po più piccoli sono un sono più piccoli quindi è progressiva quindi parte una piccola e vanno al grosso come in questo caso per esempio quindi cosa andiamo a fare andiamo a prendere i nostri pomodori gli andiamo a raccogliere quelli buoni è un lavoro molto lungo il pomodorino piccolo quando mi chiedono perché costa così tanto è perché la raccolta per fare un tot di chili questi casi così fa si butta via per raccogliere un tot di chili è molto molto lenta quindi se noi abbiamo una produzione circa è all'ora di faremo un 90 100 chili di pomodori grossi quei pomodori piccoli boni faremo 20 30 non ho mai contato dopo provo in questo caso possiamo raccogliere tutte che non è un problema si abbronzano cerchiamo di prendere tutti i lati il più possibile ora sono partite tanto andiamo comunque a fare i nostri controlli andiamo a fare la nostra raccolta ora la sto facendo una mano perché sto firmando con l'altra quindi se mi vedi un attimino così è proprio per quello e andiamo a raccogliere vedi si prendono si cerca di fargli fare il salto minore possibile e via quello che può agevolare quando ne raccogliete così tanto e mettere sotto un panno oppure usare dei secchi con questi plastiche che al fondo che rimbalzano in modo tale che non si spaccano piccolo consiglio anche questi qua bassi di solito sul basso è rimasto poco niente ma ne troviamo ancora perché sono abbiamo fatto scendere le le femminelle quindi sono in produzione anche sul basso per terra come vedi ci sono i pomodori che sono quelli marci che non usiamo noi andando a passare le calpestiamo e praticamente vengono reintegrati nel terreno senza nessunissimo problema accogliere uno potrebbe di me ma perché raccoglie anche questo pomodorino qua la motivazione guarda molto semplice nell'andare a fare un passaggio se lo faccio fra tre giorni sono già maturi e quindi niente molto semplicemente andiamo a prendere poi non tutti clienti desiderano il pomodoro iper maturo perché un pomodoro iper maturo magari non gli dura una settimana vedi questo qua è l'esempio che ti dicevo prima non tutti sono rossi vedi ma li avevamo già raccolti e niente è un po monotono è una vita così e dopo 30 minuti 40 er secchio è pieno ora andiamo a vedere quanti chili sono la cosa veramente sconcertante di queste piante è che più le guardo più sono piene veramente piene non so più da andare io questa qua dico la passata in verità se la riguardo ancora perché il trucco non lo facciamo sempre però dovrebbe essere questo il primo giorno in raccolta martedì si raccoglie da qua verso di qua il secondo giorno di raccolta quindi venerdì si raccoglie da qua a qua perché nel passare in file inverse riesce a vedere meglio dopo noi a un certo punto non ci stiamo più dietro non abbiamo più potate e un pochino sono scappate però vedi questi proprio sono già raccoglierli che sono stra buoni e stramaturi ora sono curioso di andare a vedere in mezz'ora quanti chili di pomodori ho raccolto e via quindi pigliamo e andiamo intanto orto autunnale vacca roba praticamente dobbiamo andare a pulire ora tutta questa parte trinciarla perché la prepariamo per l'orto invernale e poi faremo una pulizia interfila con i cavoli perché è nata praticamente un po' di infestante la dietro c'è il fede che è in raccolta credo insalata vediamo diciamolo vediamo cosa sta combinando fede insalata insalatine miste bene è perché oggi c'è il mercato la viene anche gente in camper che bello possono trovarmi ora se si vede sono solo le nove di mattina e non fa troppo caldo è interessante interessante però dai non ci lamentiamo vediamo quanti chili ha fatto per fare una roba precisa quindi tarizziamo ok secondo me sono 12 kg vediamo già fatta la tara 15 chili allora ed è buona ci stacchiamo qualche istante dall'orto per andare a fare quattro consegne extra degli ortaggi oltre le nostre cassette standard che consegniamo a delle signore fa troppo caldo oggi non non escono signore che rapporto io e quindi andiamo a fare qualche consiglia subito extra imprevista ma va bene così prendo un po più fiato magari anche caffettino ho finite le consegne extra ora andiamo a mangiare dopo oggi pomeriggio ancora altra raccolta di pomodori spero che questo video un po strano ti sia servito per capire come andiamo a fare la raccolta e come gestiamo gli ortaggi nella mia azienda agricola se hai qualche domanda qua sotto nei commenti ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti